Quando Maggioli Editore mi ha detto Alice collaboriamo, beh mi ha presentato i propri volumi tra cui questo, Schemi e lezioni. Adesso oggi vi parlo di questo di diritto costituzionale ma c'è anche in altre materie. Io l'ho amato sin da subito, leggerissimo e poi schematizzato. C'è qualcosa di meraviglioso. Tu hai di ogni argomento lo schema, la verifica e il quiz. Bellissimo. Prendiamo un esempio. Costituzione italiana caratteri lunga, rigida e democratica. A posto. In un rettangolino ho tutto. Cosa vuol dire questo? Giro la pagina e in una facciata ho la mia spiegazione. In questo modo io leggo, ripeto, non devo schematizzare e a una domanda scritta orale io so dare la risposta perché conosco l'ABC della Costituzione italiana e così per tutto il resto. Maggioli Editore costo 36 euro ma la cosa più bella è che tu hai il QR code. Quindi tu hai un materiale cartaceo ma utilizzando il QR code hai ulteriore materiale che te lo porti dietro anche quello. Buona giornata a tutti. Ciao!